È di nuovo caos all'aeroporto di Hong Kong dopo che all'alba era stato dato l'annuncio della ripresa dei voli dallo scalo occupato da cinque giorni dai manifestanti nero uniti dallo slogan Rise Hong Kong for Freedom. Ieri un blocco totale aveva paralizzato l'aeroporto, uno dei più importanti del mondo, tra setine e striscioni. È il culmine di una protesta che da oltre due mesi infiamma la città, che nel 1997 fu riconsegnata dal Regno Unito alla Cina e da allora vive il suo status di amministrazione separata in virtù dell'accordo Un Paese e Due Sistemi con fasi alterne di tensione. Quest'anno il nodo è ormai da settimane la legge sull'estradizione che consentirebbe una più facile e immediata consegna dei dissidenti politici alla Cina e si è trasformata nella più grande sfida al dominio cinese della città. Già in varie parti della città le forze dell'ordine sono intervenute con lacrimogeni e manganelli difesi dalla governatrice Carrie Liam che in un'accorata conferenza stampa chiede ai manifestanti di non spingere la città verso l'abisso. Hong Kong, ha detto Liam, ha raggiunto una situazione pericolosa e ulteriori violenze potrebbero portarla al punto di non ritorno. La leader continua però a eludere le domande sul progetto di legge sull'estradizione mentre il governo cinese senza mezzi termini accusa gli attivisti di terrorismo e diffonde un nuovo video dopo quello dei poliziotti in assetto antisommossa pronti ad agire fatto circolare giorni fa dove si vede un convoglio di mezzi militari cinesi che si dirige verso Shenzhen, la città a ridosso di Hong Kong. Video etichettati come propaganda dato che formalmente le forze cinesi non hanno l'autorità di intervenire sul territorio dell'ex enclave britannica ma lo spettro di piazza Tiananmen ormai è stato evocato.